In questo breve corso vi voglio presentare questo strumento, l'Abtainers. È un framework basato su Docker che permette di effettuare dei laboratori in ambito ethical hacking e sicurezza informatica. È uno strumento relativamente nuovo e ancora poco conosciuto, ma che secondo me ha delle notevoli potenzialità, soprattutto perché riesce a mettere insieme il concetto di laboratorio di sicurezza informatica e Docker, che è un meccanismo relativamente nuovo e molto potente che ci permette di avere alcuni notevoli vantaggi, che adesso vedremo. Docker basa il suo funzionamento sul concetto di container. Un container non è altro che un'unità isolata di codice che ha tutto ciò di cui necessita per poter eseguire la propria attività. Per cui abbiamo un'unità isolata di codice, quindi vuol dire che non dipende da altre componenti all'interno del sistema operativo. È isolata, ma ha tutto ciò che necessita per poter eseguire la propria attività. I container sono progettati per essere portabili. Si possono muovere da un sistema all'altro, senza che questo crei particolari problemi. Docker, ovvero colui che si colloca nel mezzo tra sistema operativo e container, si occupa di tutto e noi non ci dobbiamo preoccupare di gestire questa interazione. Quindi qui il punto importante è che i container sono portabili, ovvero non dipendono dalla piattaforma. In pratica Docker prende tutti i servizi di un server Linux, ad esempio, e li trasporta all'interno di ogni container, così che ognuno di questi possa essere indipendente. Quindi qui arriva a dire ancora il concetto di indipendenza dei container. Il container possiamo immaginarlo come un piccolo sistema operativo all'interno del sistema operativo madre. E all'interno del sistema operativo madre noi possiamo avere più container, come se avessimo quindi tanti piccoli sistemi operativi che interagiscono tra loro. Adesso poi vedremo di chiarire meglio questo concetto, che al momento può essere un po' oscuro. I container, sebbene sono isolati, possono comunque comunicare e parlare tra loro. Quindi sono isolati, sono piccoli sistemi operativi, tra virgolette, a se stanti, ma in qualche modo possono comunicare tra di loro. E questo è ciò che poi rende grande lo strumento Docker, perché permette l'interazione tra questi container. Torniamo all'obtainers. È questo strumento sviluppato dalla Naval Postgraduate School. E quello che vedete sulla slide è il link per accedere all'home page di questo strumento. Quindi è uno strumento open source e interamente sviluppato da loro. I laboratori, normalmente, i laboratori classici per quanto riguarda la sicurezza informatica o l'etica hacking, sono difficili da implementare e soprattutto da mantenere. Utilizzare Docker ci porta al vantaggio di poter utilizzare una sola macchina virtuale dove al suo interno si eseguono più container Docker. Quindi questo per ribadire quanto già detto prima. Abbiamo una singola macchina virtuale e tanti piccoli container al suo interno che in qualche modo possono interagire tra loro. L'utilizzo dei container ci permette di avere consistenza tra piattaforme differenti. È qui per tornare al concetto di portabilità dei container, che non dipendono dalla singola piattaforma. È molto semplice da utilizzare questo strumento. Basta selezionare il laboratorio di nostro interesse, eseguire i container all'interno del laboratorio e poi eventualmente condividere i risultati. Le tipologie di laboratori sono sei. E queste sono laboratori per quanto riguarda la vulnerabilità di software, problemi di networking, laboratori di criptografia, di sicurezza delle web application, sicurezza dei sistemi e sicurezza dei dispositivi industriali. Quindi queste sono le macro-categorie e all'interno di ogni macro-categoria avremo diversi laboratori che potremo eseguire sfruttando appunto il concetto di container offerti da Docker. Ci sono differenti difficoltà per ogni laboratorio. E quindi questo video per darvi una panoramica di quello che è LabTainers e Docker. Quindi questo strumento è particolare, secondo me ha delle grandi potenzialità, proprio perché riesce a integrare il concetto di containers. E quindi riusciamo ad avere senza troppo sforzo e senza troppe risorse dei laboratori pronti all'uso. Cosa che se volessimo implementarli secondo la logica standard avremmo bisogno di X macchine virtuali, quindi tutta una serie di risorse computazionali, RAM, spazio sul disco, e questo complicherebbe notevolmente le cose. Docker ci permette di risparmiare e trarre vantaggio da questa tecnologia. Vedremo nei prossimi video come funziona esattamente il tutto. Quella che potete osservare in questo momento è la home page della Naval Postgraduate School. Per poter accedere a LabTainers comunque basta andare su Google, scrivere su Google LabTainers e cliccare sul primo link che ci rimanderà appunto al sito della Naval Postgraduate School direttamente alla parte di interesse, ovvero LabTainers. e questa che vedete qui è la home page del progetto. Quindi abbiamo un piccolo riassunto di quello che è lo strumento, abbiamo le modalità di installazione che poi vedremo, e poi abbiamo dei white papers in cui viene spiegato un po' più nel dettaglio di cosa tratta il progetto. Ad esempio qui abbiamo un file PDF o delle presentation slide. Qui in questo PDF ci viene presentato lo strumento a Docker Based Framework for Cyber Security Labs. Quindi qui possiamo scaricare direttamente il PDF e qui abbiamo una spiegazione dettagliata di quelle potenzialità di questo strumento. Quindi questo, se siete interessati, ovviamente potete leggervelo con calma. Qui ci sono delle slide che velocizzano la comprensione di questo strumento perché magari all'inizio, dal momento che utilizza il concetto di Docker, di container, potrebbe non essere chiaro. Quindi qui ci viene data una piccola panoramica. E poi, oltre a questo, abbiamo questo piccolo video di 50 secondi che mette in luce e che riepiloga il concetto di labtainers, di Docker e di cosa fa questo strumento. Quindi è un video di 50 secondi, molto breve, per cui potete vederlo. Nel prossimo video noi invece inizieremo ad esaminare le tipologie di installazione. Adesso parliamo di come si può installare questo strumento, anzi delle possibili modalità di installazione perché non ce n'è solo una. Allora, ripeto, bisogna andare nell'home page di Labtainers come fatto vedere nel precedente video e andiamo su Labtainers, Student and Instructure Downloads. Allora, abbiamo principalmente due modalità. o la possibilità di installare su un nostro sistema Linux già esistente il framework direttamente. Sono circa 15 MB. Vedremo poi la modalità di installazione. Oppure, cosa che vi consiglio, di scaricare direttamente la Virtual Machine Image così da risparmiarvi l'installazione del framework e di eventuali possibili problemi che potrebbero esserci. Quindi, se seguiamo la seconda modalità basta cliccare su Virtual Machine Image e qui, come possiamo vedere, abbiamo delle pre-costruite Virtual Machine Image. Abbiamo due tipologie differenti di macchine virtuali. Una che è relativa all'installazione tramite il virtualizzatore VirtualBox. L'altro è invece tramite VMware. Quindi qui possiamo scegliere quello che preferiamo. Io, avendo fatto delle prove, ho notato che quella che dà meno problemi in fase poi di lancio dei laboratori è quella VirtualBox. VMware mi ha dato qualche problema per cui, se non avete particolari esigenze, vi consiglio di utilizzare la VirtualBox Virtual Machine Appliance. Poi, in ogni caso, comunque, anche se può dare qualche problema, potete provare lo stesso con VMware. Così magari riuscite. Poi, eventualmente, c'è anche il supporto, c'è una community che permette di chiarire i dubbi ed eventuali problemi. Una volta che poi abbiamo lanciato la macchina virtuale, lo vedremo comunque nel prossimo video, per accedere dobbiamo inserire come username student e come password password123. Due parole, nel caso volessimo invece effettuare l'installazione del framework, basta aprire la student guide e la student guide al suo interno contiene i passaggi di installazione del framework. Attendiamo adesso che carichi. Ok, questa è la LabTainer student guide. Come potete vedere lo strumento è regolarmente aggiornato per adesso e qui ci sono le istruzioni per installare il framework direttamente, per cui dobbiamo scaricare questo file, questo archivio compresso e poi semplicemente dobbiamo lanciare questo script install LabTainer e questo installerà quindi sia Docker che i pacchetti necessari al funzionamento del framework. Vi ripeto questa è una scelta altrimenti c'è la possibilità di utilizzare le macchine virtuali già precostruite. Procediamo adesso con l'installazione tramite l'immagine della macchina virtuale per VirtualBox per cui la prima cosa da fare è ovviamente scaricare il file come abbiamo già visto quindi andare su Virtual Machine Image e cliccare su VirtualBox VMware Appliance e immediatamente partirà lo scaricamento del file della macchina virtuale una volta scaricata dobbiamo avviare VirtualBox cliccare su File Import Import Applicazione Virtuale e qui dobbiamo selezionare il file che abbiamo in precedenza scaricato per cui dobbiamo cliccare andiamo sul percorso del file in questo caso LabTainer VM VirtualBox .ova e clicchiamo su Apri fatto ciò verrà automaticamente clicchiamo ovviamente su Avanti e in due passaggi verrà correttamente importata la macchina virtuale il passo successivo è avviarla lo vedremo nel prossimo video avviamo quindi adesso la macchina virtuale precedentemente importata andiamo su LabTainer Virtual Machine e clicchiamo su Avvia e attendiamo qualche secondo che si avvii normalmente è molto rapido questa operazione non richiede richiede poco tempo vi ricordo inoltre che per accedere alla macchina virtuale dobbiamo utilizzare queste credenziali lo username è student e la password è password123 questo vale sia utilizzando VirtualBox che utilizzando VMware controlliamo se verifichiamo se la macchina virtuale si è avviata è ancora in fase di avvio per cui metto per un secondo il video in pausa e lo faccio ripartire appena la macchina si sarà avviata ok come possiamo osservare la macchina si è avviata una piccola nota al primo avvio probabilmente il sistema la macchina virtuale ha uno script automatico al suo interno che provvederà ad aggiornare il framework lo farà tutto in automatico per cui noi dovremo solo inserire le credenziali di accesso che abbiamo visto e automaticamente attendere qualche secondo che venga aggiornato il framework dallo script farà tutto in automatico fatto questo quello che vedremo sarà questa pagina in automatico il readme di labtainers praticamente e qui ci vengono date già alcune brevi istruzioni ovvero su come si può avviare un laboratorio quindi utilizzando la keyword labtainer e nome del laboratorio oppure se noi mettiamo solo labtainer senza mettere nessun'altra opzione vedremo la lista dei laboratori disponibili che vi presenterò nel video successivo poi stop lab nome del laboratorio provvederà a stoppare il laboratorio se mettiamo l'opzione meno r labtainer nome del laboratorio meno r praticamente il laboratorio verrà restartato da zero e tutti i dati in precedenza utili salvati verranno eliminati ovviamente notare anche che ci troviamo nello spazio dedicato al al laboratorio quindi siamo su labtainers facciamo un tvd siamo su home student labtainer labtainers student quindi questo è lo spazio di lavoro dedicato ai laboratori la presentazione dei laboratori invece nel prossimo video come già anticipato nelle slide abbiamo sei tipologie differenti di laboratorio per accedere a queste tipologie per visualizzare le tipologie di laboratorio andiamo su labtainers nell'home page e poi andiamo qui this initial release framework includer over 30 lab quindi più di 30 laboratori gli esercizi che sono riepilogati qui quindi clicchiamo su summarize the year e qui possiamo vedere il riepilogo dei laboratori innanzitutto le sei tipologie quindi vulnerabilità software networking crypto labs web security system security and operations industrial control system security queste sono le sei tipologie e qui possiamo vedere esattamente il dettaglio di ogni tipologia ad esempio networking e qui possiamo vedere il nome del laboratorio che poi ci servirà per avviare quel laboratorio e un livello di difficoltà da 1 a 3 da 1 a 4 dove 1 sono i laboratori più semplici 4 quelli più complessi per cui ovviamente il consiglio è di partire con quelli più semplici ad esempio telnet lab e qui abbiamo una descrizione di quello che dovremmo fare lo studente usa telnet per accedere un computer remoto ed utilizzando il tool tcpdump per vedere le password in chiaro e osservare come l'uso invece dell'SSH riduce questa vulnerabilità ovvero il fatto che le password vengano comunicate in chiaro come avviene normalmente utilizzando telnet al posto di SSH che è invece un protocollo più sicuro oppure ad esempio abbiamo il map discovery e quindi qui ci viene spiegato quello che fa questo laboratorio Yshark quindi come oppure un l'attacco art spoof è molto quindi come possiamo osservare ci sono molti laboratori ed è uno strumento che ci permette di far pratica in maniera molto rapida e molto profittevole poi abbiamo tutta la parte dei laboratori legati alla criptografia quindi all'utilizzo di SSL di certificati eccetera laboratori di web security dove abbiamo ad esempio il cross-site request forgery o il cross-site scripting o le SQL injection poi tutta la parte della sicurezza dei sistemi a partire dalle ACL ad arrivare ai formato ai file system poi come ultima tipologia abbiamo i sistemi di controllo industriale ovvero i PLC e questa è una parte un pochino più forse la più complicata la più inusuale diciamo così quindi questa una presentazione dei laboratori tornando per un momento alla macchina virtuale come abbiamo letto qui se mettiamo la keyword labtainers senza specificare niente avremo una lista di tutti i laboratori per cui proviamo a mettere labtainers e come possiamo vedere qui abbiamo la lista di tutti i laboratori con una piccola anche spiegazione descrizione scorrendo premendo il tasto space possiamo scorrere premendo il tasto Q possiamo uscire nel prossimo video entreremo più nel merito dei laboratori adesso una piccola parentesi sul supporto a questo strumento se noi andiamo su labtainers e clicchiamo su support ci verrà aperta la pagina del supporto ora una premessa questo è uno strumento sviluppato open source sviluppato da questo istituto da questa scuola e ovviamente essendo uno strumento uscito da poco ci potrebbe essere la possibilità che ci siano diversi bug io stesso ne ho trovati alcuni e li ho comunicati per comunicarlo si può fare in due modi o si contatta direttamente questa persona michael thomps che si occupa che segue il progetto l'idiatore del progetto oppure utilizzare in alternativa github per comunicare l'issue quindi si va su si clicca su questo link e si va sulla pagina github dedicata a questo progetto io ho contattato comunque direttamente la persona che mi ha risposto subito c'è un general troubleshooting quindi qui ci sono alcune delle casistiche di problemi più diffuse quindi se vi trovate in una di queste dateci un occhio e poi comunque sia vengono rilasciati periodicamente degli aggiornamenti quindi basta lanciare questo script per avere il framework sempre sempre aggiornato anche i laboratori si aggiornano periodicamente al momento è uno strumento un framework che viene aggiornato molto spesso quindi questa è una cosa senz'altro positiva vengono anche aggiunti molto spesso i laboratori iniziamo adesso ad esaminare qualche laboratorio partiamo dalla categoria networking partiamo dal telnet lab leggiamo la descrizione lo studente usa telnet per accedere a un computer remoto e utilizza tcpdump per vedere le password in chiaro e osservare come l'uso dell'SSH mitica questa vulnerabilità per cui la prima cosa che a noi interessa è il nome del laboratorio per poterlo avviare il laboratorio si chiama telnet lab per cui accediamo alla macchina virtuale volendo possiamo anche digitare labtainer per avere la lista di tutti i laboratori compreso il nostro come potete osservare quello evidenziato telnet lab illustrate the telnet protocol transmission of plaintext password quindi c'è anche una piccola descrizione per cui la prima cosa da fare è avviare il laboratorio digitando labtainers e come indicato qui dalle istruzioni subito il nome del laboratorio nient'altro quindi osservate già come è rapido e veloce l'esecuzione di un laboratorio quindi labtainers telnet lab premiamo invio ok enter your email address invio yes non c'è bisogno di metterla e vediamo se il laboratorio si avvia normalmente press enter to start the lab ok e come possiamo osservare il laboratorio è partito abbiamo un client e abbiamo un server e qui giusto una premessa sul concetto di container questi non sono altro che due container un container client e un container server che stanno a rappresentare l'utilizzo di un pc client e l'utilizzo di un pc server è come se noi in questo momento avessimo tirato su avviato altre due macchine virtuali una che rappresenta la macchina client e una che rappresenta la macchina server ovviamente noi non abbiamo fatto ciò ma abbiamo sfruttato la potenza di docker dei container quindi il fatto di aver dato lo start al laboratorio ha dato la possibilità a docker di creare questi due container che interagiranno tra di loro come abbiamo detto questi due container sono delle entità isolate ma nello stesso tempo per poterci dare la possibilità di svolgere le attività devono in qualche modo comunicare tra loro quindi adesso iniziamo a effettuare questo esercizio la prima cosa da fare è capire qual è l'indirizzo ip del client del server soprattutto in questo caso ci interessa del server per cui andiamo sul server digitiamo il comando if config if config ci darà l'indirizzo di rete del locale del server come possiamo vedere docker riesce a emulare un'infrastruttura di rete completa quindi abbiamo una scheda di rete che avrà indirizzo 1722003 e se noi facciamo la stessa cosa con la macchina client anche qui avremo un indirizzo 1722002 e docker ha fatto tutto ciò in maniera automatica è indipendente vuol dire che ogni client ogni container client ogni container server avrà la propria scheda di rete emulata ovviamente quello che dobbiamo fare adesso per poter vedere le password in chiaro trasmesse dal protocollo telnet è effettuare il comando telnet sul server quindi posizioniamoci sul computer client e digitiamo il comando telnet telnet indirizzo ip della macchina server quindi del container server io adesso farò riferimento a macchina server ma ripeto che non siamo in presenza di una macchina virtuale ma stiamo utilizzando un container basato sul motore docker quindi telnet 172.20.0.3 che è l'indirizzo ip del server digitiamo invio e come possiamo osservare ci viene richiesto il login le credenziali per effettuare il login sono ubuntu e password ubuntu e come possiamo osservare abbiamo effettuato correttamente la connessione telnet sul server se io digito if if config ovviamente vedrò l'indirizzo ip del server in quanto mi ci sono connesso tramite il protocollo telnet ad esempio una premessa per visualizzare le istruzioni dell'esercizio andiamo su lab tainers mi sono dimenticato di fare questa premessa e dobbiamo andare su lab manuals e lì avremo praticamente possiamo scaricare tutte le istruzioni di ogni laboratorio per poterlo quindi effettuare quindi andare su lab manuals e verrà scaricato un file compresso dove sono contenuti tutti i laboratori quindi torniamo adesso la macchina virtuale e qui c'è in questo server è stato creato un file che permette di vedere il suo contenuto quindi quello che faremo adesso file to view punto txt e questo qui praticamente è la stringa che a noi interessa adesso quello che noi dobbiamo fare è però riuscire a vedere come le password sono comunicate in chiaro per cui dobbiamo in qualche modo metterci sniffare il traffico e per farlo utilizziamo il tcpdump lo strumento da riga di comando tcpdump per cui qui chiudiamo la connessione con exit siamo di nuovo sul client adesso andiamo sul server spostiamocelo da questa parte per comodità e digitiamo il comando sudo tcpdump meno i eth0 che è il nome della scheda di rete meno x tcp ovvero ci interessa il protocollo tcp e a questo punto quello che dobbiamo fare è lanciare nuovamente la sessione sse la sessione telnet per cui qui premiamo invio adesso siamo in ascolto sull'eth0 effettuiamo nuovamente il telnet per avviare la connessione e come possiamo osservare inizia a passare il traffico adesso mettiamo ubuntu e come possiamo osservare il traffico fluisce e mettiamo una password sbagliata pippo ad esempio e premiamo invio e ovviamente ci verrà dato ci verrà dato un messaggio che il login è incorretto adesso quello che possiamo osservare qui è che la password è stata comunicata in chiaro non è magari immediatamente visibile quindi dobbiamo andare a cercare tutti i vari pacchetti però possiamo osservare che noi abbiamo messo pippo come password quindi andiamo su questi pacchetti sec e qui possiamo vedere password quindi ci viene chiesto l'inserimento della password e noi interessano i pacchetti sec non hack quindi sec ecco qui p la prima lettera inserita la i altro pacchetto sec altra p altra p e la o finale quindi come possiamo osservare la password è stata comunicata in chiaro quindi questa è la prima parte dell'esercizio poi la seconda è fare la stessa cosa con l'SSH per vedere invece che la password non viene comunicata in chiaro quindi questo potete farlo come esercizio per stoppare il laboratorio una volta che noi l'abbiamo eseguito si torna sul qui sulla scel principale e dobbiamo digitare il comando stop lab nome del laboratorio quindi stop lab in questo caso telnet lab e premere invio e questo stopperà il laboratorio ovvero spariranno sono come potete osservare sono spariti i due terminal relativi al client e al server tutto qui e adesso siamo pronti per effettuare un nuovo laboratorio procediamo adesso con un nuovo laboratorio è il map discovery sempre della sezione networking che praticamente ci chiede di utilizzare il map per scoprire dove è locato un SSH server e quale porta utilizza il servizio il protocollo SSH per cui quello che dobbiamo fare innanzitutto è aprire le istruzioni sul file che vi ho nell'archivio compresso che vi ho mostrato in precedenza nel precedente video allora il titolo è usare il map per network discovery per scoprire degli indirizzi di rete allora in questo laboratorio esploreremo l'utilizzo di endmap per scoprire computer e servizi nella rete ovviamente il laboratorio si avvia con il comando lab container e nome del laboratorio e il task il compito ad effettuare è questo il tuo capo render vuole prepararti per un meeting di un progetto dove you have not worked dove non hai non hai lavorato da mesi tu hai un summer un file riepilogativo chiamato questo qui in questo tu hai un file in questo server che precedentemente a cui precedentemente potevi accedere tramite SSH comunque tu non ti ricordi l'indirizzo IP di questo server e ti sei dimenticato anche la porta che lo staff IT ha utilizzato per l'SSH su questo server tu sai solo che la porta è compresa tra 2000 e 3000 the one thing you must ok la password utilizzata è la stessa utilizzata nei laboratori quindi sarà ubuntu your left ok quindi dobbiamo utilizzare le mappe per due motivi uno per scoprire l'IP address e l'altro motivo è per capire la porta utilizzata dal protocollo SSH che probabilmente non sarà quella standard e a questo punto dobbiamo quindi procedere quindi dobbiamo fare praticamente due cose network discovery per scoprire l'indirizzo IP del server e poi scoprire a quale servizio è stato associato il protocollo a quale porta è stato associato il servizio SSH per cui andiamo sulla macchina virtuale e avviamo il laboratorio quindi labdainers e nmap meno discovery invio labnamed ho sbagliato a scrivere ok nmap quindi nmap e invio please enter your email address nel caso volessimo inviare i risultati a noi non ci interessa quindi yes lasciamolo vuoto e avviamo il laboratorio press enter to start the lab enter e ok qui ci sono ripilogate nuovamente le istruzioni che abbiamo già visto noi chiudiamo perché le abbiamo già lette e qui abbiamo il computer da cui dovremo far partire le scansioni nmap prima di tutto dobbiamo effettuare un host discovery l'host discovery si utilizza con il comando meno sp quindi nmap innanzitutto guardiamo su che rete siamo ifconfig siamo sulla rete 172.25.02 per cui possiamo fare un nmap meno s meno sp di questa rete della rete 172.25.0.0 barra scusate la tastiera in inglese barra 24 invio adesso sta avviando nmap e come possiamo osservare abbiamo trovato quest'host questo siamo noi e questo è l'host trovato 172.25.05 quindi probabilmente sarà il ssh server a cui ci stavamo riferendo primo step completato adesso dobbiamo capire la porta su cui è stato associato il protocollo ssh per cui facciamo nmap meno meno p 2000 barra 3000 che è il range delle porte su cui era associato indirizzo ip dell'ssh server 172.25.0.5 non credo servi altro invio e come possiamo osservare è stato trovato su questa porta un servizio andiamo a vedere se è effettivamente dove hanno locato l'ssh server per cui la porta è la 27.05 il comando da utilizzare quindi è ssh meno p specificare la porta 27.05 e l'indirizzo ip per cui 172.25.0.5 vediamo se funziona invio ci viene chiesta una password ubuntu e come possiamo vedere siamo riusciti ad accedere in ssh al server if config e siamo sull'172.25.05 esercizio terminato per cui semplicemente possiamo stoppare il laboratorio andiamo sul laboratorio digitiamo il comando stop lab nmap meno discovery e ok e automaticamente ora in tempo qualche secondo si stopperà il laboratorio ok è stato stoppato procediamo adesso con un ulteriore esercizio pick up analysis di tshark network traffic analysis tool is used to identify and display a specific network packet containing a plain text password quindi praticamente dobbiamo utilizzare tshark che è la versione da linea di comando di yshark vi ricordo yshark è quello che si utilizza che abbiamo utilizzato anche nei precedenti corsi e più volte tshark è la versione da linea di comando in questo caso utilizzeremo questa per analizzare un pacchetto di rete che contiene una password in chiaro andiamo a leggerci le istruzioni overview di slab questo laboratorio introduce l'analisi di un file pick up che è stato creato utilizzando lo strumento tshark tu analizzerai un pick up file esistente cercando un tentativo di login invalido pick up stand for pick up capture quindi questo formato è quello che identifica normalmente lo sniffing dei pacchetti su una rete per avviare il laboratorio l'obtainer's pick up analysis e qui abbiamo questi task da eseguire run tshark to perform pick up analysis quindi questo è il comando che noi dobbiamo lanciare su questo file e poi bisogna visualizzare il singolo pacchetto che contiene un tentativo invalido di login relativo all'utente admin locate single frame containing the password provided when the user attends to login as the admin user ok per cui volendo poi possiamo specificare il singolo frame cioè noi vedremo poi tutta una serie di frame ci possiamo posizionare su quello volendo in ogni caso quindi questo è il comando che noi interessa questo comando va messo tutto su una linea quindi in questo modo e a questo punto possiamo avviare il laboratorio per cui andiamo su student digitiamo il comando lab containers e nome del file in questo caso pick up analysis vediamo se ce l'ho già ok eccolo qui please enter your email address niente yes and press enter to start the lab ok e qui abbiamo il nostro container che si è avviato adesso adesso semplicemente questo al suo interno ci sarà probabilmente il file di nostro interesse per cui digitiamo copiamo questo comando tshark per avviare l'esecuzione e poi per soffermarci sul pick up file di nostro interesse fast invio e come possiamo osservare qui abbiamo tutti i vari frame che partono dall'11 e arrivano fino in fondo e qui possiamo vedere varie cose tra cui un tentativo di login da parte dell'utente admin inserendo questa password che poi si è rivelata essere incorretta per cui in questo frame noi abbiamo il tentativo di inserimento password non corretto per cui semplicemente abbiamo terminato il laboratorio questo era abbastanza facile eccoci pronti per un nuovo laboratorio esamineremo adesso Yshark intro introduction to you to the use of Yshark canalize network traffic per cui apriamo il file e quello che dobbiamo fare come compito è avviare Yshark ed effettuare l'analisi di un pickup file questa volta non utilizzando Tshark quindi la versione da linea di comando di Yshark ma proprio Yshark quindi con tutta l'interfaccia grafica dovremo avviarlo aprire questo telnet pickup file e locare praticamente un singolo frame che contiene il tentativo di login da parte dell'utente John questo tentativo di login che poi si rivela essere invalido ovvero la password inserita non è corretta tutto qui non è necessario effettuare altro per cui accediamo alla macchina virtuale e a questo punto avviamo il laboratorio l'obtainer Yshark intro anteriore mail address possiamo lasciare bianco premere Y e il laboratorio si avvia quindi primo passo avviare Yshark quindi digitiamo sul terminal Yshark invio e come possiamo osservare si apre l'interfaccia grafica di Yshark poi dobbiamo accedere al file telnet punto pickup per cui file open attendiamo che si carichi proviamo a rilanciarla perché forse si è bloccato ce l'abbiamo anche qui in open recent home.telnetpickup ok e questo è il file appena aperto ora noi dobbiamo localizzare il tentativo di login da parte dell'utente John che poi risulterà essere invalido tramite protocollo telnet per cui andiamo sulla barra dei filtri e digitiamo telnet lo possiamo digitare in quanto protocollo per cui ci viene riconosciuto come possiamo vedere dalla barra che diventa verde se mettiamo qualcosa di errato la barra sarà rossa per cui telnet invio e qui abbiamo tutti i vari tentativi abbiamo tutto il traffico telnet generato dobbiamo localizzare quello di nostro interesse posizioniamoci ad esempio qui e espandiamo la barra telnet e qui possiamo proprio vedere che la prima cosa il primo pacchetto è relativo al login ovvero il server chiede il login a questo punto l'utente digita il login john il server a questo punto 03 il server 02 l'utente 03 il server richiede la password l'utente inserisce john password noi sappiamo che questo tentativo è fallito per cui dovremo trovarci un frame che ci spiega che ci esplica login failed incorrect andiamo avanti ed eccolo qui login incorrect ovvero le credenziali utilizzate la password inserita non è corretta tutto qui l'esercizio a questo punto è terminato per cui file quiet chiudiamo e a questo punto torniamo sulla shell principale digitiamo stop lab white shark punto intro in modo da poter iniziare nuovamente con un altro laboratorio adesso accediamo ad una nuova sezione ovvero crypto labs giusto per così variare per non fare solo la sezione networking prendiamo un laboratorio ad esempio ssh lab use of public private key to access a server via ssh andiamo quindi a leggere le istruzioni questo esercizio esplora l'uso del protocollo ssh da un computer client per connetterci in maniera sicura a un server usando una coppia di chiavi pubblica e privata quindi il classico scambio di chiavi pubblica e privata ovvero criptografia asimmetrica in questo esempio il solo possesso of private key sufficiente to access to remote host in general password protected private key are more secure ok quindi ci basta la chiave privata quindi in questo caso dovremo avviare il laboratorio generare a questo punto con ssh cajan la chiave pubblica e la chiave privata la coppia di chiavi sul computer client a questo punto quello che dovremo fare è passare sul computer server sul server la chiave pubblica quindi noi dovremo copiare con questo comando la chiave pubblica id rsa.public a questo punto confermeremo il tutto e poi semplicemente proveremo la chiave verrà inserita in ssh slash authorized keys e poi dovremo provare ad accedere in ssh e vedere se tutto funziona correttamente per cui proviamo ad effettuare adesso questi passi quindi ci connettiamo alla macchina virtuale avviamo a questo punto il laboratorio non mettiamo la mail press enter to start ok qui quindi quello che dobbiamo fare è innanzitutto generare la coppia di chiavi pubbliche e private per cui utilizziamo questo comando per effettuare l'operazione ssh-cagen-trsa qui ci chiede dove la vogliamo salvare lasciamo tutto come default non inseriamo nessuna passphrase rinseriamo quindi niente e a questo punto la chiave è stata creata your identification is saved in chiave privata e chiave pubblica salvata questa e questa quindi abbiamo generato la nostra coppia di chiavi a questo punto quello che dobbiamo fare è mettere portare la chiave pubblica sul server per cui comando ssh copy eccetera eccetera su questo indirizzo che è quello del server quindi lanciamo questo comando invio are you sure to want connecting confermiamo con yes password ubuntu e a questo punto la chiave è stata aggiunta come possiamo vedere qui number of keys added one e la possiamo trovare su ssh authorized keys a questo punto se tutto è andato bene dobbiamo provare a effettuare la connessione e dobbiamo riuscire ad accedere al server per cui lanciamo questo comando mettendo l'indirizzo ip del server quindi 172.20.0.3 e come possiamo osservare siamo dentro il server per cui la connessione ssh si è effettuata con successo fine dell'esercizio quindi possiamo stoppare il laboratorio e procedere con un nuovo esercizio vediamo adesso un ultimo esempio ovvero una dmz dmz lab quindi apriamo il file di istruzioni e in questo esempio vedremo una semplice dmz per cui ci viene fornita una topologia di rete come segue dove abbiamo una rete interna definita da questo inner gateway che possiamo immaginarlo come un router nella rete interna che suddivide la dmz dalla LAN interna abbiamo un router esterno che poi si connette che da una parte è esposto sulla dmz e dall'altra parte è esposto verso internet verso l'isp l'internet service provider poi abbiamo una locazione remota che anche questa per andare su internet passa tramite il nostro isp che a sua volta questa locazione questo remote gateway questo router remoto vediamolo come un router è connesso a una rete remota e nello specifico qui ha una workstation che ha questo indirizzo per cui riequilogando abbiamo l'inner gateway dove abbiamo questi dispositivi connessi qualcuno sulla rete 1 1 0 qualcuno sulla rete 2 0 abbiamo questi abbiamo una dmz su cui ci sono esposti pubblica sull'indirizzo ip pubblico questi servizi quindi abbiamo web server on dns esposti pubblicamente perché l'indirizzo ip pubblico qui è 192 18 barra 01 e questi qui stanno sulla rete 18 quindi sono esposti pubblicamente bene quindi adesso quello che faremo è vedere questa rappresentazione attraverso l'utilizzo del laboratorio accediamo adesso al nostro laboratorio quindi digitiamo il comando labtainer dmz example please enter your email address non lo inseriamo invio e attendiamo qualche secondo che i container vengano avviati in questo caso ci può valere qualche secondo in più perché comunque abbiamo molti container quindi attendiamo metto il video in pausa e lo riprendo appena finito ok press enter to start dell'hab e il laboratorio adesso si è avviato come possiamo vedere abbiamo tutta una serie di container attivi partiamo da quello definito come inner gateway nel nostro disegno questo qua questo router interno come possiamo vedere ha tre interfacce di rete 198 18 192 168 e 1 10 192 168 2 10 andiamo a vedere queste interfacce digitiamo il comando if config e qui anche se abbiamo degli indirizzi p differenti cosa che ci può stare però abbiamo le th 0 sulla 198 18 177 che in questo caso simboleggia questa anziché avere l'110 noi abbiamo abbiamo detto 177 e poi dovremmo averne uno sulla rete 1.qualcosa e l'altro 2.qualcosa andiamo a verificare 2.86 e 1.33 quindi anche se gli indirizzi p sono differenti abbiamo la stessa situazione a questo punto andiamo a vedere l'outer gateway per cui outer gateway if config e abbiamo un'interfaccia sulla 1.2 e poi sulla 18 abbiamo un'interfaccia infatti sulla 1.qualcosa e poi sulla rete 18 come possiamo eccomi qui outer gateway sulla 198 18 1.2 198 18 0.2 quindi vediamo se è vero 198 18 1 198 18 0 quindi esattamente la situazione qui con indirizzi più differenti poi cosa abbiamo torniamo sulla macchina virtuale abbiamo il dns if config sulla 198 18 1 dns 198 18 1 3 e poi abbiamo anche il web server vediamo se lo troviamo web server eccolo qui sulla rete 198 18 154 quindi questi qui sono sulla rete pubblica degli sp esposti pubblicamente poi abbiamo un remote gateway quindi possiamo andare a vedere anche gli altri qui ci sono i remote gateway if config due interfacce di rete uno sulla 203 e uno sulla 198 198 203 e poi abbiamo una remote workstation una workstation remota che sarà sulla rete 203 e come possiamo servire sulla rete 203 e poi abbiamo vs1 vs2 vs3 che sono rispettivamente queste vs1 vs2 vs3 quindi anche qui l'indirizzo ip sarà 1 vs1 sulla rete 1 e gli altri sulla rete 2 2.1 2.2 per cui andiamo a vedere if config sulla rete 1 if config sulla rete 2 e anche questo dovrebbe essere sulla rete 2 e infatti sulla 2 2 e adesso quello che possiamo fare qui ad esempio è vedere come è stato implementato il il routing quindi inner gateway il nostro router interno digitiamo il comando root e qui possiamo vedere che tutto il traffico di default passa sulla 198 18 1 2 ovvero 192 18 1 2 ovvero su andrà fuori uscirà qui qui è 1 10 e noi abbiamo 1 2 e poi abbiamo invece che tutto il traffico sulla rete sulla rete 2 0 sulla rete 192 168 1 0 192 168 2 0 198 18 1 0 passerà rispettivamente sull'interfaccia 2 quindi sull'interfaccia TH2 passerà tutto ciò che è destinato alla rete 1 0 quindi qui la rete 1 0 è questa quindi questa interfaccia qui è la nostra TH2 poi abbiamo tutto ciò che è sulla 2 0 sulle TH1 quindi 2 0 questa qui è l'ETH1 e poi abbiamo l'ETH0 dove ci passerà tutto il traffico di default e della rete 18 quindi tutto ciò che è sulla rete 18 passerà da qui quindi questa è l'ETH0 quindi TH0 ETH2 e TH1 e l'analisi può proseguire anche per quest'altro quindi questo per questo esempio è la realizzazione di una semplice DMZ quelli che abbiamo visto finora sono i laboratori già esistenti già creati sono circa una trentina e come abbiamo già visto sono suddivisi per varie categorie una funzionalità molto interessante di questo strumento è la possibilità di creare i propri laboratori utilizzando il Lab Designer User Guide ovvero la funzionalità di designer dei propri laboratori come possiamo vedere qui abbiamo una sezione che appunto ci permette di scaricare il Designer Framework Installation che ha una dimensione circa 160 MB e la possibilità di realizzare i nostri laboratori utilizzando facendo riferimento alla Lab Designer User Guide quindi questa è una non è semplicissimo realizzare i propri laboratori perché bisogna prendere confidenza con questo strumento e con tutti i suoi comandi più avanzati però era giusto far presente anche questa questa funzione e qui come possiamo osservare si è aperta la Designer Guide dove ci viene spiegato nel dettaglio come creare il nostro container come fare le nostre personalizzazioni e questo ci permette di creare i nostri laboratori personalizzati in base alle nostre esigenze e agli esercizi che vogliamo fare quindi qui si tratta solo di sperimentare e provare che si tratta